Le novità si rivelano terapeutiche per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che ha la meglio sull'Eppi Casa Brindisi 86-84. La combinazione della prima volta alla Vitri Frigo Arena di Lorenzo Pizza come nuovo detentore della maggioranza di quote societarie, la novità di Franco Arceci, presidente del consorzio, e la new entry di sostanza Equilibrio portata sul parquet da Marex Meieris, generano una vittoria al Cardiopalma con la squadra di banchi che si prende anche vantaggi di 9 punti, ma con i pugliesi che restano incollati ad una partita che alla sirena Pesaro vince di misura ma con merito. Trascinata da un ottimo Sanford, supportata da Jones e Delfino e sostenuta da un esordio di Meieris che fa ben sperare una VL che vince e va a più 4 sulla zona calda. Ci prendiamo questa bella vittoria, importante, costruita con un prepotente rientro nel secondo periodo e poi da lì abbiamo dato dei segnali confortanti per la capacità che abbiamo dimostrato di limitare il potenziale offensivo di una squadra a Brindisi che, complice anche le ultime aggiunte, si candiderà ad essere una delle squadre più importanti in questo finale di stagione. Quindi voglio che sia dato il giusto risalto a vittoria contro, come detto, un'avversaria che vedremo anche quest'anno tra le assolute protagoniste di questo campionato. Abbiamo sofferto la loro fisicità, abbiamo dato tante seconde opportunità, sapevamo di soffrire dal punto di vista fisico, atletico, abbiamo cercato di compensare con il lavoro di squadra, con lo sforzo di tutti e poi in attacco purtroppo non sempre abbiamo avuto quella lucidità che ci aveva permesso di arrivare a costruire un promettente vantaggio. Vittoria robusta anche per l'Ital Service che a Eboli ritrova la fel di rivale di Supercoppa e la batte di nuovo, con un 5-2 firmato dalla doppietta di Fortini e dalle reti di Salas, Taborda e Tony Dandel che regalano la vittoria a dispetto delle pesanti assenze contemporanee di Borruto, Canal ed Olivera. L'Ital Service resta in testa con due punti di vantaggio su Petrarca Padova che però ha una gara da recuperare. Di punti ne raggiunti invece 41 la Vispesero che ora può dirsi salva e può pensare solo ai play-off dall'alto del suo ottavo posto a sette gare dal termine. Nell'anticipo del sabato i pesaresi battono il Grosseto in rimonta, botta risposta nel primo tempo con Capanni che fa gioire i toscani e Tonso che li riacciuffa subito aiutato dalla deviazione di un difensore. Nel secondo tempo decidono i rigori. Il Grosseto ne ottiene uno ma Cretella lo stampa sulla traversa. Non sbaglia invece la Vische a quattro minuti dal termine riceve un penalty per atterramento di Marcandella. Rigore con cui Cannavò segna il 2-1 definitivo che consente alla Vis di concedersi nelle migliori condizioni all'impegno ravvicinato con l'elite del torneo. Domani, martedì 15 marzo, c'è infatti la trasferta in casa della Reggiana seconda in classifica. Sabato invece arriva al Benelli il Modena prima della classe e al Benelli sarà giornata biancorossa. I ragazzi sono stati fantastici e come dico sempre i complimenti vanno a loro perché oggi hanno dominato come piace a me il gioco con il non possesso e con la pressione. La chiave della partita è stata che la Vispesaro pressava in avanti la costruzione del Grosseto e loro mettevano la palla lunga. Dentro il campo in primo tempo le seconde palle non le abbiamo gestite benissimo nel senso che le conquistavamo ma poi non davamo qualità a quel tipo di soluzione. Nel secondo tempo è cambiato qualcosa, paradossalmente per essere un pochettino più propositivo con la palla sono tornato al centrocampo a 3 invece che a 2 e quando tu giochi con due mezzali come Tonso e Marcandella dopo ti passa la palla che uno dei due attaccanti scarica e ti ritrovi con un giocatore offensivo vicino all'area. I ragazzi sono stati ripeto attentissimi e soprattutto anche, e questo è un grande merito, sono stati coraggiosi. Il coraggio oggi di questa squadra ha fatto la differenza. Sconfitta pesante in Serie D per il Fano che cade 1-0 a Notaresco colpita dal gol dell'ex Vittorio Esposito che inchioda l'alma al terz'ultimo posto in classifica. Dal calcio al volley a Urbino la Megabox Vallefoglia gioca una gran partita ma rimedia solo applausi. La squadra di Bonafede sfiora il tie-break ma la Igor Gorgonzola a spuntarla in 4-7.